Grazie a tutti 8-13, invece quello che usiamo noi È 8-12, se è più forte Eh, ok, io c'ho solo la spada, userò con le diamanti Bene, io direi, guardate che posto Ok, molto molto buio Dai, partiamo da destra, d'accordo Ok, guarda laggiù, brutto schifo Ecco, mi ha preso in pieno, vai, vai Ok, se salti Mentre colpisci, li fai più male, sappilo Ok, quindi li ammazzi prima Ma c'è dato qualcosa di buono? Io direi, per fare in modo di vedere Più facilmente la roba buona Di mettere tutto qua così No, tutto in fondo, così la roba me la mette in alto Bene, ok Facciamo così, a me non la vedo più facilmente Là Ho 18 ossa ho preso Ok, qui mi sa che non c'è già più nulla Perché tornate io, amore Ah, ok, ah, quando me la vedete prima? Prima in te nel negozio Eh, non l'ho comprato, vabbè E se ero intronato Qua c'è qualcosa? Sì, un passaggio segreto, ottimo Non c'è mica tanto segreto secondo me Vediamo Ah, c'è già un boss fight Ok, aiuto Oddio, aspetta Si sta laggando un sacco a me Aspetta Proviamo? Ok Vai, aiuto Special potions Ok È la stregaccia Aiuto, dov'è? Dov'è la strega? Strega, strega Aiuto, sento dei rumori osceni Ah Eccola Eccola Che brutta che sei Aia 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 Ma dovevo afficcato nel muro? Come ti ho afficcato nel muro? Da cavolo sono Aiuto Guarda, mi prendo una pozione della rigenerazione Prendila anche tu se ce l'hai Perché siamo messi male così C'è anche i baby zombie Aiuto Aiuto È terribile Ah Anche a me che sta succedendo? Non lo so Sarà una di quelle pozioni che ti fa impazzire Sto cercando di incidere la scuola di diamante Sono di quelle pozioni che ti fa impazzire Da Aiuto Torna subito, torna subito Ah Vedete però Ho nausea Si chiama nausea questa cosa Ti fa andare tutto in In confusione In confusione il cervello Dai Ammazzala Dai, 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 dai Guarda che brutta C'è una cosa oscena Aiuto, aiuto Tu proteggimi dai minion Ah No, 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 no Instant health, presto Uh, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta per un pelo Vai Ammazziamola Buttala nel calderone Ma che sto facendo male io? Non lo so Aiuto Non è che mi vedi bloccato Mi vedi muovermi, vero? Sì Scusa, sono un goccino occupato al momento Per sapere che ti vedo muovere Ok, è a posto No Giusto, un altro instant health È morto Eh, ho preso un instant health Troppo tardi Non importa Vabbè, ce l'ho Ah Che sta succedendo? Ah Impazziamo Ci stanno lanciando pozioni lo stesso Ma chi? Che ne so Dal muro sono apparse Ci saranno dei lanciagrani Allora, fa vedere Ti ha dato qualcosa? Nulla Sì, un cd E beh, per forza Ok, siamo pronti E questo cos'è? Uno stick Occhio, occhio Via da lì, via da lì Aiuto, presto, presto Sblocca Mettilo subito sto cd Subito Ah Ok La marcia funebre Allora le prendo io sta roba, dai Allora l'hai presa tu come minima No, me la date, ok Ho già lì pixel Ma non dovrei averla bloccata Oh Ci è rimasto male a Robreen che l'abbiamo uccisa E ci sta O lei che è cattiva con una pelacilla di ciamanza Abbiamo 4 gold nugget Perfetto 4 gold nugget E ci ha dato Ha dato una borra È silenz Ma quella che c'ho già? Sì, ce l'ho già Comunque è nuova Benissimo A posto Dai, torniamo a casa A casa? No, andiamo allo shop Dammi tutti i bon Scusate per eventuali lag Non è colpa Se hai eventuali bon Non per eventuali tubo Ok, a posto Allora C'identico finito praticamente le pozioni Non le ho usate punte io E le ho usate perché non volevo fare la cosa di morire Giusto per rendelo più realistico Uno cerca di salvarsi con le pozioni realisticamente Tu non andai avanti senza di me Aspettami un attimo all'entrata No, vengo con te Ok No, ma no Consumi cibo Dai No, vabbè Aspetta Però non so che cosa c'ho nel mio ender chest Per quello vengo con te Ah, va bene Poi speriamo di trovarne altri ender chest comodi Benissimo No, davvero Veramente bella Non vediamo l'ora di scoprire altre cose Allora intanto direi di comprarci qualcosa Dato che ne abbiamo 4 Abbiamo queste qua più potenti Direi che conviene partire da secondo noi questa Perché da 10 di armatura Quindi è quella che dà di più di tutte Quindi deve partire da questa Protection 2 eccetera Vai Compriamola Ma ce l'ho io quella addosso La squark Se me si Davvero? La più forte di tutto il gioco? Ah no, è la fenix È quella subito prima più forte Vai Ecco la squark Presa Vedi Tu ce l'hai quella più forte Quindi sta qua è mia di diritto Ma che cattivo Ma siamo uguali Siamo simili Ok, sta qua con questa è la più potente del gioco Ok, lo appoggio via anche queste Il resto lo tengo per sicurezza A questo punto che ho questa nuova spada Metto via anche questa Ok, questa la posso mettere via Questo lo tengo per sicurezza Poi vedremo un po' Anzi, lo so ce l'ho pieno Mi hai dato una spada dell'Angelic 7 Ma è talmente consumata Che non so quanto mi durerà ancora Ah si? Vabbè, vediamo un pochino Allora intanto direi di prendere ancora del tipo del cibo Oppure qualche pozione Ma sono capelli o hanno un cestino in testa? No, hanno un cestino in testa Dato che non possiamo prendere pozione Andrei sul cibo Normalissimo, ok Prendiamoci un'altra bistecca E basta Non abbiamo nient'altro Ah no, sì Abbiamo da prendere un pochino di bistecche Oppure vediamo se con questo si può prendere Una pozione di Stantelt Che può sempre servire Ma non ci sono i vetri alla finestra? Non ci sono vetri? Allora aspetta Prendiamoci un Un Instant Held Sì ci sono ma non si vede Prendiamoci un Instant Held Due Instant Held prese Vai E poi E poi prendiamoci No, tu ce n'hai di carne? Sì dai ce n'abbiamo di carne Vai ho preso tre nuove pozioni di Instant Held Yayoo Yayoo? Sì ti ho fatto un assalto dall'alto Non mi hai mai visto A posto Ok La Andiamo Andiamo Abbiamo ancora due boss State in casa voi Vai torna in casa Che ti prendi freddo Vai in casa Vai in casa Victor Che non so chi sia dei due Victor Vai Stai in casa Sono Victor e Victor Vai in casa Ok a posto Andiamo Guardate che carino che sono Carina io Più o meno Io glittero Sì ma io c'ho la demonica Sono una gatta glitterata Ma Ok Andiamo Ora andiamo a sinistra Dai prima a destra o a sinistra Da dove vuoi entrare? Dall'entrata magari Dalla porta dissi Così scontato Così scontato Non possiamo distruggere su un blocco Quindi direi che è così scontato Vai A sinistra Aia Brutto cerbiatto Andato a male Non mi siano cerbiatti questi Mi fanno solo schifo Non mi laggare Ah Stanno aumentando Stanno aumentando Cos'è? Un cosciotto di pollo in mano Questo Ma come? Mi attacca col cosciotto di pollo Aiuto Aiuto Quanti siete? Quanti cavolo siete? Chiudi quelli che dovrebbero essere Aia Un altro cosciotto di pollo Malefici Malefici cosciotti di pollo Via Non ti piace il pollo? No ma non mi piace che la gente Mi attacchi con i cosciotti di pollo Ok? Capisco Aspetta ce n'hai uno che ti insegue Ora insegue me Bene Fantastico Ho fatto un po' di aspirapolvere Vediamo che mi ha dato Allora No Che è? No Mi ha lasciato No ma non è possibile Che? Cioè me l'ha lanciata via Ma che stupidale Cioè me l'ha lanciata via e me l'ha rotta Da quando si rompono se le lanci via? Si rompono Allora Ma non sono pozioni normali? Ah Splash potion sono Aiaia No ho comprato delle splash potion Ah ok Quindi ce le lanciamo Ok Quindi usano per tutti Allora Ho trovato anche i leggings Dell'armor set Che sono più fichi Quindi me li cambio Dell'angelic Dell'angelic set E fa vedere l'armatura Più figa quella che ho addosso Direi di sì Aiuto Un elmetto nuovo Mi farebbe anche piacere Perché questo fa veramente stifo 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 Qua c'è una porta C'è un po' troppa roba nell'inventario Vabbè Poi intanto Ma ci sta che ce l'abbiamo Ok Andiamo qui C'è un mini zombie Ma quanto sono veloci Quanto fate schifo Quanto siete veloci Ma no schifo non fanno Poi mentre questo qua ci vuole un MC patch Cioè ci vuole una mod per evitare questi piccoli bug Ok Scusate per questo Immaginate che ci sia Immaginate che ci sia del fuoco comunque Ok Non avevo letto che era una splash potion Potevano farle un pochino più diverse Le splash potion Ma queste riprendono a pugni con le cosce di pollo in mano Ve l'ho detto Ok Poi mi brucio quindi non ci andrei È comunque fuoco Ok Dai 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 Ammazzalo Ammazzalo Ok Buono Buono Buonissimo Bene 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 Non potete anche lasciarmi una coscia di pollo Di quelle che ci sarò No lasciami bastoni questi qua Bastoncini Guarda Qua vedo questo passaggio Immagino che quindi usciremo di qui Dopo che avremo fatto dei giri Sono sicura O di là Perché vedo delle strane rotaie Sono beciata un po' Aia ma aspetta un attimo Sono moreto di fame Non me ne ho accorta Stai morendo di fame Mamma mia Ok Aspetta che Laggiù lo vedo Stai lì Stai lì Stai bravo lì Bravissimo Bravo Muori Non è che È uno di quelli fortissimi Vacci da lontano Stacci lontano Perché li hai tirati verso di noi Non dobbiamo farli avvicinare Eh lo so Ho capito E dove sono i più Ti colpisci l'altro Che ce n'è un altro dietro Che rompe le Ah no Lag no Lag no Si sono beca Si sono ammazzato a vicenda Non colpirli Non colpirli Non colpirli Si sono ammazzato a vicenda Si Non colpirli Non colpirli Lasciali che si ammazzino Si si Tanto è morto Ok Vabbè almeno un po' L'ha adebolito ancora Non lasciamolo avvicinare Sto qua sembra forte Vai lontana Allontanati Più lontana Più lontana Più lontana Aiuto Gli zombie Pigme No 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 Scappa Scappa Dirà che si muove troppo Sta ferma Sta ferma Sennò non vai lontanare No Ok Così si prende fuoco Vai a fuoco Vai a fuoco Brutto Pirla Bravo Ma sei Sei anche un po' scemo Però buttarti nel fuoco Torna su Lascialo nel fuoco Lascialo lì Ho capito Non lo so Punta Sicuramente Dove una roba buona Sto qua Quindi fallo uscire Aiuto Minchia Occhio Aspetta Aspetta Cerco di colpirla Ce la come Ce la come Aiutiamoci Aiutiamoci Mamma mia Certo che è dura Sì ma uno da solo Qui ci more Non è consigliabile A giocare in single player Questa Un po' a te Un po' a me Meno male che abbiamo Le cose infinite Perché sarebbe impossibile Aiuto Acchio L'ho preso L'ho preso Dove avercela con me anche No direi che non ce l'ha con te Ah vai la carne più tenere Che ti devo dire Ah può darsi Ah Scappa 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 Ah non mi fa Ok ce l'ha con me Ce l'ha con me Guardami che mi sta laggando tutto Ce l'ha con me Tranquilla Ce l'ha con me Ok Trovo a venire a salvare Ai 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 Lagga anche a me Franchi Brutto schifoso Ma quanto Ma vuoi morire Ah ce l'ho io adesso Se va un celai Stiamo giocando a celai Aia No no Non l'ho visto Mamma mia È durissimo Da tirare giù Mamma mia Mi ho tirato 200 stack di frecce Aiaia Tiramelo via Tiramelo via Mi sta laggando tutto Aspetta sto arrivando In teoria Aiuto Ok ce l'ho fatta La roba Me l'ha lasciata Mi l'ha lasciata Un tubo Ma no Mi l'ha lasciato Il sole Cuscura Ma fa schifo Meglio di quelli Che ho io però E il clouds light Ok A posto Ho anche io Qualcosa di angelico Adesso Bene Mamma mia Se è duro da tirare giù quello Sono quelli delizio Senti dato che adesso Io ho due splash potions Se abbiamo poca vita Ricordati di starmi vicina Così ne approfittiamo Tutte e due Va bene Ok qua E non c'è nulla C'era qualcosa qui Non credo che fosse solo Solo per divertimento Uccidere sto mob Solo per magari recuperare Della roba Forse Può dare sì Alla fine non è parte Della storia lui No ci sta Per recuperare della roba Una piece di mini boss Forse Ok andiamo Se quello è un mini boss Eh Non è che possiamo ammazzare Il Wither alla fine Vero Il Wither Eh C'è un'altissima probabilità Oh forte Ma non diciamo Lo troppo forte Aspetta aspetta C'è il lag che è forte però Eh Scusate Tavo uno scherzo di nome Xaville Ma no Qua non si è aperta la porticina Boh allora andiamo Andiamo prima su Ci torneremo dopo Qua sto cuocendo Sono accesi Ste fornacci Ma non cuociono nulla Guarda se c'è qualcosa dentro Ma mi sembra di no Ok Proviamo ad andare su Qui non abbiamo trovato Nuove cose Anche se quella porta chiusa Mi fa pensare Che qualcosa di strano ci sarà Comunque per ora Saliamo le scale Dai Che è solo per bellezza Per far sospettare quelli come noi Ci sta Ok Che è sto verso Eh è un rumore che non mi piace Prendeci un tastino C'è anche di là Prova a scherciarlo di là Di là Di là Di là Di là Di là Dove ero io Dai Ok c'è stato un passaggio Prova a scherciare di nuovo questo No Ok Andiamo giù Per me c'è sotto un altro Di quelli zombie pigme Aiuto No Figata C'è una roba segreta C'è una splash potion Vabbè Niente di più Una testa di scherzo Se la distruggia Scusa Ok E come si torna su Con l'acqua Saltando Ok Benissimo Ci sono anche passaggi segreti Eh c'è un altro tasto Aspetta aspetta Ma Niente Sono quattro tasti Ma solo uno funziona A posto È un insieme di cose Ok pronti andiamo Lava Lava No Lava Lava Ah Ma forse potevo anche non colpirlo Secondo me Ok Lander peel Però non serve niente Aia Zato The mage Aiuto Aiuto Fa vedere Com'è sta zona Prima di schiacciare il bottone Aiuto Vediamo se qualche chest Qualcosa Aia Che si è fatto male Io Perché Io lancio frecce a casacchio Guardiamo se c'è qualcosa di buono Prima di cominciare lo scontro Qualche posto È una libreria Eh infatti Usiamo di poterle dare fuoco Alla fine Basta Cos'è questo jukebox Ok niente È jukebox Dove finiamo Sei pronta 3 2 1 Aiuto Aiuto Si teleporta Dove sei Dov'è 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 Raggiù Però figata Diciamo Diciamo Probabilmente Per godervo Senza eventuali Problemi Eroi Ci vorrebbe Aià Aià Dove sono No Ma terribile Ci vorrebbe Probabilmente Questo Questa specie Di Questo MC Patcher Che Penso che Possa andare bene Anche L'Optifind Nel caso Purtroppo Con questa Roba Qua Ti Si Ti Si Larga Tutto Grazie a tutti.